Sei troppo silenzioso. Se non tiri fuori una delle tue battute sarcastiche e cattive nei prossimi dieci secondi, d'ora in poi in auto metterò solo musica da film e prendimi in parola. Parlane con Nate. Parlane con me. Che cosa c'è da dire? Non lo so. Che ti senti in colpa per la morte di Dom. Che se l'avessi addestrato meglio non l'avrebbero rapito. Che forse se fossi arrivato un po' prima sarebbe ancora vivo. Visto? Che cosa c'è da dire? Beh, potrei dire che... Devi smetterla di vederla così. Tu hai fatto il possibile. Potrei dire che ci colpisce tanto la sua morte perché era così giovane e non se lo meritava. Potresti dire che non è la prima volta che perdi un compagno. e io ti direi che questo non lo rende meno doloroso. O potresti dire che sei triste. Sai una cosa? Sono triste anch'io. Ricattarmi con la musica da film. Ragazzi, ho trovato un ago. Quale ago? Mo. Mo! Aspetta, Mo! Mo! Butta quel coltello! Sta lontano! Sappiamo che sei stanco. Che hai paura. E che hai cercato di aiutare il nostro agente. Gli hai dato tu la chiave per farlo scappare. È salvo? È salvo. Coraggio, Mo. Andiamo. Mani dietro la testa. Ehi. Ehi. Grazie. Grazie.